Durante il suo ingresso al grande fratello Vip, Corinne Clery era stata notata dal pubblico da casa per il suo burrascoso rapporto con Serena Grandi. Come ormai ampiamente risaputo, le due attrici hanno avuto un matrimonio con lo stesso uomo, causando una rottura tra le due. A distanza di qualche giorno, dopo l'accesso confronto avvenuto sotto l'occhio vigile delle telecamere, l'artista francese ha fatto parlare di sé grazie alla sua esibizione in piscina, senza vili, durante la notte di Halloween. Qualche minuto fa, dopo che la conduttrice del grande fratello Vip ha comunicato di Corinne Clery di dover abbandonare il gioco, l'attrice francese ha scelto di festeggiare le bandosi in diretta il costume donatole dagli sponsor del programma. Fortunatamente, l'attrice francese ha scelto di indossare per la serata un abito lungo e il gesto è stato ampiamente mascherato dal capo. Ilari Blasi, invece, non è riuscita a trattenere il suo stupore davanti a un tale comportamento, pregando Daniele Bossari di portare immediatamente un paio di slip alla famosa artista francese. Punto tutto questo casino per un paio di mutande. Ha risposto Corinne, sentendo le parole della conduttrice. Anche questa sera, la pazienza della presentatrice del reality è stata messa a dura prova. Punto secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, Corinne Clery voleva lasciare Angelo, suo compagno da qualche anno. Quest'ultimo, prima che all'attrice fosse comunicato di dover lasciare il GF VIP, ha scelto di fare una sorpresa alla sua fidanzata. I due hanno chiarito di fronte alle telecamere, mettendo a tacere le voci che li vedevano affrontare un forte periodo di crisi. Intanto, il gesto di Corinne Clery ha suscitato un certo scalpore tra il pubblico da casa, mentre il web sembra essere divertito dalla spontanea follia, positiva, dell'attrice francese che secondo gli utenti della rete avrebbe portato il buon umore all'interno della casa più spiata d'Italia. In questo momento, Corinne non è l'unica concorrente a dover lasciare la casa. Ilari ha comunicato ai partecipanti del GF VIP della seconda eliminazione a sorpresa, che secondo i piani iniziali doveva avvenire la settimana scorsa, ma per mancanza di tempo la produzione si è vista costretta a rimandare l'episodio durante l'appuntamento di questa sera. Tra poco, invece, l'attrice francese sarà in studio in compagnia degli ex concorrenti del programma. Tra questi, ovviamente, ci sarà anche Serena Grandi. L'ennesimo confronto tra le due attrici della casa più amata degli italiani è dietro l'angolo.